Avete organizzato un bellissimo convegno sulla donna, oggi qui all'ITC Luttifero. La donna oggi e il suo escursus per arrivare alla parità. Il titolo in realtà è La donna oggi e il suo lungo cammino verso la parità. Lungo cammino perché ovviamente la donna ha... noi non lo sappiamo perché oggigiorno le ragazze, ed è proprio per questo che le abbiamo organizzato, perché la mia generazione, le generazioni di oggi, non sanno quanto cammino la donna ha dovuto fare anche per il diritto al voto. Noi abbiamo, io e la professoressa De Caro, che ha organizzato con me questo evento, abbiamo voluto sensibilizzare i ragazzi della nostra scuola proprio verso questa tematica attraverso tre ospiti illustri che sono state tre donne. L'avvocata Battigaglia che è presidente del CPO di Crotone, quindi pari opportunità. la magistrata dottoressa Angiuli che ha ricevuto anche il premio pari opportunità, un giudice della famiglia, insomma, quindi un ospite, una donna veramente importante da questo punto di vista ovviamente. E poi l'onorevole Sculco che per quanto riguarda, oltre i ruoli politici ovviamente che riveste proprio per Crotone, ha avuto una bellissima iniziativa che è la fondazione di un comitato Crotone Città delle Donne. Questi tre ospiti hanno suscitato l'interesse da parte dei ragazzi proprio perché hanno dialogato con loro. Non è stata una lezione noiosa di quella che può essere stata un excursus della donna e dei diritti che noi abbiamo ottenuto grazie a loro, ma è stato proprio un dialogo perché si sono approcciate ai ragazzi con un linguaggio semplice, diretto, e i ragazzi sono stati veramente colpiti e l'obiettivo che c'eravamo prefissati è stato raggiunto. Hanno avuto tanto interesse che hanno fatto tante domande, quindi per noi è stato un successo, i ragazzi veramente hanno apprezzato. È importante sensibilizzare i ragazzi e l'ambiente in generale. Questa è una bella domanda perché noi l'abbiamo fatto proprio per questo, la scuola non è solamente nozionismo, la scuola è proprio questo, sensibilizzare attraverso questi eventi i ragazzi a delle tematiche che magari neanche potrebbero conoscere in altri ambienti perché siamo proprio noi, i docenti, i professori, i presidi, i dirigenti, a sensibilizzarli per avere l'opportunità di conoscere attraverso quello che è stato il passato, il presente. Quindi per noi è veramente importante che la scuola sia un'apertura al mondo, ai diritti, anche perché in questa scuola si studia proprio il diritto, si studia molto bene, per cui i ragazzi sono stati veramente entusiasti ad avere una conoscenza di quello che è stato un ex ursus, ma anche proprio le testimonianze. Cioè le nostre ospiti hanno dato delle testimonianze semplici, ma dirette e quindi loro hanno dialogato, per cui io ringrazio le mie ospiti, le tre donne che si sono prestate a questo evento, che veramente sono state squisite perché lo abbiamo organizzato in pochissimo tempo e poi sono state disponibilissime. I ragazzi, ripeto, veramente sono stati bravissimi, poi abbiamo discusso ovviamente dopo la lezione, cioè dopo il convegno, quindi è andato veramente molto bene.